io volevo volevo approfittare per ringraziare Enrico Reda lui è stato il nostro gancio che ci ha permesso di di realizzare registrare la trasmissione e poi mandarla sotto l'Italia quindi grazie Enrico per il grande aiuto che ci hai dato a Settimi Paselli anche al territorio Mondaltese ciao Enrico, grazie allora dopo questo flash dell'amico Pino De Munno siamo pronti per un momento legato alla danza Valzer delle Ore una coreografia di Manuela Luizzo sempre firmata a Flash Dance a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti